ok allora continuando con visual design non credo ovviamente riusciremo a fare nessun tipo di esercizi oggi ma essendoci anche l'ora di laboratorio non essendoci queste così complicate non dovrebbe essere troppo un problema fatemi andare veloce ci sono dei principi tipo questi di gestalt che che sono leggi dalla psicologia in questo caso dal 1920 che norme su come le persone tipicamente vedono gli oggetti nel loro contesto in generale quindi di conseguenza anche su come si può si possono relazionare all'interno di un'applicazione web per esempio quindi sono trucchi che noi vediamo in altre applicazioni esistenti e che potremmo utilizzare anche nel nostro caso adesso qui ci sono tutta una serie di tutti i principi dettagliati diciamo che ci interessano fino a un certo punto se volete dargli un'occhiata ovviamente a senso ma al di là della singola definizione guardiamo per esempio il principio della similarità ok che è un principio che ci aiuta di nuovo a essere familiari ci aiuta a riconoscere struttura nella pagina e quindi a sapere come utilizzarla prendiamo l'applicazione della stampa dov'è la familiarità dov'è la similarità no no all'interno della pagina quali sono gli elementi che ci fanno dire qui c'è similarità io ne vedo almeno tre quattro eh questo sì questo però non è similarità e le similarità di elementi no quindi tutti quelli arancioni significano una cosa tutti quelli grigi significano un'altra cosa tutti i pallini significano una cosa eccetera questo è un post principale no giusto è una news principale di non so che hanno però come fatta cosa sulla pagina cos'è questa immagine titolo dove divisi più o meno 50 50 un po meno l'immagine giusto e questa è una news principale perché occupa tanto spazio questa che cos'è anche perché sapete che una news principale perché ho detto che questa è una news principale questa perché dite con la news principale perché è fatta allo stesso modo c'è similarità quali altri elementi simili vedete allora in quest'ottica queste due notizie qui sono simili hanno la stessa importanza probabilmente che è diversa da queste due di nuovo gerarchia logica come fare le cose poi quale altri ci sono ancora due elementi due parti che sono simili due sezioni che sono simili questi questi tre sono simili qualunque cosa siano mini news latest news qualunque cosa siano ma indipendentemente qualunque cosa siano questa qui è simile a questa ed è simile a questa e non è simile a questa quindi è un qualcosa di diverso e poi questi uno due tre queste mini notizie similarità vi aiuta a capire come è strutturata la pagina che queste queste sono la stessa cosa perché si assomigliano questi tre pure questi due che poi in realtà sono tre perché la pagina va avanti pure e questi tre sono lo stesso livello di importanza hanno lo stesso livello di familiarità tra di loro quindi sono collegati in qualche modo anche se non sappiamo esattamente che cosa siano quindi questo è un trucchetto che si può utilizzare se ho cose che sono per me lo stesso concetto posso farli simili in modo da abituare la persona che quando vedo questo e lo rivedo fra un giorno o fra una settimana so che è la stessa struttura so che la stessa similarità prossimità cosa sono queste di walmart categorie di prodotti e sono categorie disgiunte o categorie una e una sottocategoria dell'altra disgiunte e perché sono disgiunte c'è scritto da qualche parte che sono disgiunte o che sono categorie sono allo stesso livello sono allo stesso spaziatura sono incolonnate in un certo modo hanno tutti una stessa immagine eccetera 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 quindi no similarità come prima ma anche prossimità per cui se ci fosse qualcosa di più lontano di questo spazio probabilmente non sarebbe una categoria perché è troppo lontano rispetto tutte le altre continuità questo è amazon no sulla destra sulla sinistra beh dipende da che parte lo vedete e cosa succede se premo la freccia se premessi la freccia se io premo la freccia quanti elementi compaiono aggiornati cinque perché cinque perché ce ne ha già cinque quindi questo è un altro esempio di continuità sono cose che vediamo in giro ma sono principi che quindi io mi aspetto che se tu se premo la freccia per questo principio psicologico della continuità me ne appaiono cinque perché ne ho cinque davanti agli occhi quindi se io promessi la freccia me ne comparerebbero sei o quattro sarebbe strano mi chiederei perché me ne appaiono cinque o sei o quattro un numero diverso e diverso da quello che mi aspetto quindi rompo la familiarità rompo l'usabilità eccetera così come qual è lo step che viene dopo questo qua dopo questo step viene il numero perché? perché dopo il tre c'è tipicamente il quattro se tu passi step otto in un sito mi direi manca qualcosa, si è rotto qualcosa quindi piccoli esempi ma sono principi psicologici questi che possiamo utilizzare negli step è ovvio che dopo il tre venga il quattro che io premo la freccia me ne compaiono cinque è atteso ma magari non è così ovvio punto focale all'interno di una pagina ci dovrebbe essere o spesso c'è un punto o alcuni punti che attirano l'attenzione più degli altri in questi due esempi qual è il punto focale secondo voi? il pulsante rosso nel primo e nell'altro? quello verde, questa parte centrale perché prima ho messo lì centrale con quello verde cosa serve il punto focale? perché il pulsante rosso vogliamo che l'attenzione sia sul pulsante rosso? per indirizzare l'utente verso quello che interessa a noi in senso positivo o negativo in questo caso il pulsante rosso dice utilizzalo gratis quindi utilizzalo che è quello che vogliamo che la persona faccia va sul mio sito e vorrei che usa questa piattaforma usa questo servizio quindi ed è gratis quindi non voglio evidenziare vedi casi d'uso perché sono solo informativi quindi voglio che la persona sia attratta dal usalo e allo stesso modo qui e più per metti il codice di ovviamente postale e poi trovi i negozi perché è la funzionità principale dell'applicazione voglio che tu lo usi quindi in questo caso il punto focale attira l'attenzione su su quello che vogliamo prendiamo questo che è un esempio più ecclatante perché diciamo che il punto focale è quello rosso perché è la prima cosa che vediamo ma perché ce lo fa notare come prima cosa che vediamo perché è totalmente diverso dal resto non ci sono altri bottoni rossi per niente ci sono altri bottoni ma non rossi addirittura il rosso non c'è proprio in questa pagina è una discontinuità di colore non di stile perché il bottone è ancora rettangolare come l'altro ma è una discontinuità così forte che la notiamo subito stessa cosa qui è l'unico riquadro in mezzo alla pagina con un bottone verde e un campo grosso per forza notiamo quello non notiamo login non notiamo come funziona Instacart notiamo questa parte qua perché è una messa bella grossa centrale in uno stile coerente con il resto ma che attira l'attenzione questo è un altro esempio erano solo tre quelli che volevo far vedere poi ci sono altri principi ovviamente sul layout invece qui sono andate via le griglie ma vedrete vedrete che possiamo notare che quasi tutte le applicazioni software non solo le siti web hanno in realtà una struttura basata su griglie basata su layout basata su allineamenti dove sono allenamenti per esempio qui in questa parte centrale di questi pannelli di impostazioni quali sono le cose che hanno la stessa importanza e quindi sono allineate e lo ignoriamo queste solo nella parte principale e poi le checkbox tutte queste checkbox sono allineate anche questa e hanno la stessa importanza questa checkbox qui cosa vi dice il fatto che non sia allineata che è secondaria rispetto a quella sopra quindi se io quella sopra la disattivo probabilmente anche quella si disattiva è collegata un po' come queste qui sotto questa è disattiva e questi sono disattivati anche loro quindi anche le applicazioni non web sfruttano un layout a griglia sfruttano l'allenamento per raccontarci la priorità delle cose le dipendenze tra le cose senza doverle dire senza dover dire se disattivi la spunta prima allora anche questa rimane disattivata ma ce lo comunicano senza dirlo con dell'allenamento e anche tutti questi campi vedete sono allineati tutti questi campi di test all'interno della sezione e la fine non proprio ma quasi questa no addirittura se voi guardate la guida di Microsoft su come creare applicazioni per Windows non solo vi dice allineatele vi dice anche quanto allinearle per esempio ogni etichetta deve essere distante l'una dall'altra 24 pixel non 25 non 28 24 e in maniera uguale e invece la distanza orizzontale tra due etichette che hanno che sono correlate orizzontalmente è 12 quindi meno che la distanza verticale quindi con precise misure i due bottoni devono essere distanti 6 pixel non meno non di più quindi tutte queste cose di design visuale sono fatte in maniera precisa questo è di nuovo la documentazione di Microsoft per Visa Studio e vi raccontano esattamente che c'è una griglia che c'è un allineamento perché questo deve essere tutto allineato perché dipende da questa checkbox spenta allineare l'etichetta dei controlli nested quindi se io spengo questo perché è una priorità diversa è una è dipendente da quello precedente questo di nuovo rafforza la familiarità rafforza il numero di possibili errori che evitiamo in questo modo perché ci troviamo in una situazione familiare e va bene le layout a griglia in parte l'abbiamo già visto da da bootstrap ci sono i margini ci sono le colonne ci sono gli spazi intorno alle colonne e e poi ci sono ovviamente le le griglie di base eccetera e bootstrap usa quello ma la maggior parte dei siti o dei dei sistemi usa quello per esempio questa è material e il layout di material quindi di google che definisce esattamente le spaziature di un'applicazione secondo una griglia di colonne margine eccetera e di nuovo dà dei valori specifici per cui margine deve essere un tot di pixel un tot di percentuale eccetera per gli sviluppatori per chi deve creare le cose in modo che tutte le applicazioni fatte usando il material design si assomiglino tra di loro e familiarità eccetera 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 e bootstrap lo conoscete ormai sufficientemente quindi questo non non è necessario andare oltre ma vedete che questa struttura a griglia per esempio anche il sito della stampa che abbiamo visto prima ha una struttura a griglia queste immagini grosse sono esattamente allineate e questo e questi tre sono esattamente allineati rispetto a delle griglie delle colonne che cambiano questo è ovviamente uno spazio diviso in due terzi e un terzo e poi nei due terzi c'è una riga che ha immagine e testo e una riga che è divisa ancora in tre parti quindi se questo fosse bootstrap sarebbe un col 12 che viene diviso in un col 8 e col 4 per esempio e poi questo sarebbe un col un col 6 e un col 6 all'interno del col 8 un'altra riga col 6 e col 6 poi un'altra riga con col 4 col 4 e col 4 poi un'altra riga con col 6 e col 6 perché dividerebbe lo spazio in maniera uguale ogni riga diversamente ma anche questo è strutturato in griglia esattamente come per esempio potreste fare in bootstrap idem stack overflow stack overflow ha una serie di colonne di dimensione diversa in base a quello che deve contenere ma tutte le cose sono perfettamente allineate all'interno di quelle colonne con determinati spazi che rimangono costanti all'interno della pagina non importa quale sia il componente che è presente in quella sidebar se questo è giallo oppure questo in fondo su le domande più più attive in questo momento nella rete e questo è un esempio preso dal Politecnico questo che cos'è secondo voi questa è la versione 2019 e precedente di non del carico didattico ma di quella stessa pagina che abbiamo visto prima il piano di studi quella pubblica online questa è fatta griglia sì o no sì perché c'è il periodo didattico c'è il codice c'è la lingua c'è il nome del corso ci sono i crediti c'è il docente c'è le note ci sono i vincoli poi vabbè le note ogni tanto cambiano diventano una stellina e un orologino invece che solo l'orologino poi ci sono queste altre icone messe a caso qui in fondo all'insegnamento che rompono un po' però a livello di griglia e di allenamento va abbastanza bene qual è pensando a quello che abbiamo detto finora quindi anche pensando al concetto di prossimità al concetto di familiarità eccetera le cose che secondo voi potrebbero essere migliorabili in questa pagina dove c'è l'insegnamento scelta c'è lo spazio c'è sotto gli altri tipo secondo anno primo anno subito sotto c'è il periodo lì invece c'è lo spazio c'è questo spazio qui poi che corso fa Fulvio Corno in 5 secondi passato web application è stato facile passare da da qui a qui cosa avrebbe aiutato le righe un'alternanza di colore un qualcosa che aiutava a collegare meglio quello che c'è tanto a lato con tutto questo spazio e è il titolo qui da qui sembra sembra stordo addirittura perché è la prospettiva ovviamente se dovessi dirvi da qui che cosa fa e capita in mezzo tra in GIF 05 ed oppure perché per via della prospettiva del proiettore non se ci fosse una riga sarebbe più facile seguirlo senza mettersi frontalmente che cos'altro che ci potrebbe potrebbe essere migliorabile quindi le righe o l'alternanza di colore un qualcosa che mi mantenga sulla stessa riga la spazzatura anche qui questa grossa spazzatura qui l'allineamento dell'icone della telecamera che finiscono dove finisce la scritta quindi ovviamente è a caso e cosa sono quelle telecamere rosso, verde, gialla? sì quella beh il 2019 era prima del covid quindi non c'erano le virtual classroom se sono le video registrate quelle verdi saranno video registrate quelle rosse no e quelle gialle forse dipende ci manca una leggenda ci manca qualcosa di più chiaro quelle gialle mi sembra fossero registrato negli anni accademici precedenti quindi verde registro quest'anno rosso non registro non è mai stato registrato giallo è stato registrato non l'anno attuale ma è stato registrato in passato così come la stellina cos'è la stellina questo è il mio corso tra l'altro che tra l'altro mancano i docenti chissà perché sui corsi a scelta mancano i docenti vabbè la stellina perché io sono bravo mi metto la stellina qua quando vado in aula no no è consigliato per il corso di studi no è consigliato per l'orientamento software in realtà questo è laurea magistrale in ingegneria informatica e questo è il corso a scelta consigliato per l'orientamento software tra tutti i corsi a scelta che ci sono e poi cos'altro vincoli sì e adesso che avete questa informazione sul fatto che ci sono dei vincoli ne sapete quanto prima che vincoli ci sono cosa ci posso fare un po' poco informativo infatti dal 2020 in poi l'hanno rifatto e per esempio hanno messo delle righe dei colori quindi miglioramento e hanno anche tolto tutte le videocamerine da da qui vicino al titolo quindi altro miglioramento l'hanno poi buttato in una colonna note ma adesso l'hanno ricambiato un'altra volta quest'anno però vabbè anche qui le telecamerine hanno un colore diverso e si potrebbe se ci vai sopra col mouse lo vedi però almeno adesso se voglio sapere cosa fa un docente a colpo d'occhio vedo che per esempio di nuovo Fulvio Corno fa Web Application 1 perché è sulla stessa colonna ci sono le righe c'è lo stesso colore eccetera quale problema però hanno introdotto al netto della colonna note con tutto dentro buttato questo è sempre l'orientamento software di prima sì no potrebbe essere solo che non ci stava nella pagina quindi sei più piccolo perché motivi di spazio mio ci sono le righe per gli oppure quindi voi sapete come funzionano però se io leggo questo direi io non ho mai visto questo facciamo finta io non abbia mai visto questo dico ok Information System è un corso Architettura e Sistema di Elaborazione è un corso oppure mi viene difficile dire che sia un corso e Computer Architecture è un corso sicuramente e vado avanti così e allora questa riga vuota voi sapete probabilmente che è questo oppure si riferisce ad Architettura e a Computer Architecture perché il nome tutto sommato ci assomiglia no? però questo è un modo di vederlo l'altro modo di vederlo è che Information System Architetture è in oppure con Computer Architecture e Data Science che in oppure con Data Science e Computer Network quindi quali sono gli elementi in oppure? quello subito sopra quello subito sotto oppure tutti quelli sopra tutti quelli sotto questo layout non ce lo dice lo sappiamo noi perché i nomi sono simili quindi in un certo senso era qui aveva lo stesso problema ma non essendoci righe era più facile non notarlo qui hanno evidenziato un problema allora per esempio come si potrebbe solo visivamente sistemare questo modificare gli spazi in modo da tenere le cose con gli oppure più vicini e gli altri un po' più lontani quindi prossimità il principio di prima oppure? mettere un bel contorno marcato magari non ha proprio l'effetto grafico estetico desiderabile oppure si cambiare proprio la forma però rimanendo con questa struttura per esempio esatto assegnare di colori simili quindi il primo è bianco architetture computer architecture e oppure sono per esempio tutti grigi quindi tre righe ma dal stesso colore data science è bianco data science è bianco questo pure è bianco perché in realtà raggruppa un po' come mettere un contorno no? però qualcosa di più subdolo un pochino più quindi questo è un miglioramento della pagina che poi ha introdotto altri se volete criticità però è comunque un miglioramento che di nuovo non ha niente a che fare che contenuti è solo a che fare con l'estetica e la progettazione visuale è sempre una griglia è sempre una tabella eccetera alcune linee guida quando si progetta un template è sempre sia del contenuto già deciso è sempre buona norma iniziare dal blocco di testo più lungo così si può strutturare quello con i principi che abbiamo visto prima il testo allineato a sinistra per il mondo occidentale almeno è più facile più veloce da processare visivamente da scorrere visivamente senza leggere tutto tutto rispetto al testo centrato e rispetto al testo centrato a destra allineato a destra l'allineamento guida l'occhio e aiuta a ridurre la confusione il caos in un certo senso il clutter quindi è bene evitare le cose non allineate e le cose che sono un po' come focal point diverse non allineate deviazioni dal pattern se a un certo punto avete una tabella poi questa tabella cambia totalmente colore poi ritorna nel colore precedente quello lo notate subito è un qualcosa che vi fa chiedere perché e così e se c'è un motivo come nel punto focale perfetto se non c'è un motivo bisognerebbe evitarlo quindi un po' più di consistenza e prossimità visuale come dicevamo prima può aiutare per esempio nella tabella degli insegnamenti a tenere le cose a raccontare la gerarchia tra le cose e le relazioni tra le cose colori noi sicuramente quello che vogliamo evitare è questo no? quindi sì tanti colori ma non è esattamente quello questo è un sito vero ovviamente non è che l'ho fatto su photoshop e quello che vogliamo evitare è sicuramente questo quindi usare i colori va bene usarli con moderazione va meglio quindi utilizzo dei colori non esagerare è spesso fondamentale progettare in scala di grigi e poi dopo aggiungere i colori per essere sicuri che l'informazione che volete fornire sia inviata appunto tramite il layout tramite le griglie tramite la prossimità eccetera e non unicamente tramite il colore e ogni colore dovrebbe avere un significato associato non esserle un sito all'archino e è bene utilizzare una palette di colori quindi una serie di colori limitata che riutilizziamo all'interno della stessa applicazione al sito che è quello che fanno la maggior parte delle applicazioni siti tranne qualche esempio quindi per esempio sulla scala di grigi se voi mettete stack overflow in scala di grigi quindi togliete i colori riuscite ancora a capire di che cosa si tratta qual è l'importanza relativa delle varie cose cos'è un bottone eccetera eccetera non c'è nessuna informazione fondamentale che viene rimossa dalla rimozione del colore e poi dopo potete decidere che questo è giallo oppure è verde cosa sono le palette le palette sono insieme di colori che sono con le loro tonalità che vengono scelti per un determinato sistema ambiente queste sono le palette del Politecnico ufficiali e con le loro condivazioni con il loro codice colore eccetera quindi il Politecnico non usa un blu qualunque usa esattamente questo blu qui e non usa un arancione comunque qualunque usa esattamente questa arancione qui in queste tonalità e non in altre e quando si vogliono combinare bisogna combinarle esattamente in questi modi quindi definiscono questo vale per i prodotti per gli oggetti fisici tipo questi quindi quest'arancione che adesso è un po' scolorito ormai ma dovrebbe essere esattamente uno degli arancioni della palette quindi vale per gli aspetti fisici ma vale anche per gli aspetti digitali ovviamente e quindi scegliere una palette ci sono anche siti che vi generano una palette per esempio Material Design vi propone alcune palette di colori primari secondari quelli primari sono usati per i bottoni principali che volete utilizzare e quelli secondari per i colori per i bottoni per esempio secondari per i test di background per le informazioni di background eccetera tipo questi per esempio questa è la palette di color di chrome e anche tenendo d'occhio l'eventuale contrasto per cui il contrasto tra il colore di primo piano e il colore di sfondo deve essere sufficientemente ampio da poter per esempio leggere con tranquillità in varie condizioni di illuminazione eccetera quindi il grigio scuro su uno sfondo nero non è una buona scelta mai quindi questo colore qui per esempio disattivato come si vede qui su questa slide e anche su questo proiettore non ha un grande contrasto tra il fondo tra lo sfondo e il colore primario perché sono troppo simili allo stesso modo qui altri il primario il link il positivo il negativo sono invece più prominenti su uno sfondo bianco e ci sono anche tool tipo questo colorsafe.co che è dato dei colori vi dicono qual è il colore migliore per mantenere un buon livello di contrasto quindi ci sono tool che vi degenerano le palette ma anche che vi danno un'indicazione su io voglio usare questo verde quali sono i colori che sono ok con questo verde quali sono altri colori che posso usare in sfondo oppure no ma in aggiunta a quelli ovviamente i colori oltre per evidenziare qualcosa dovrebbero avere un significato quindi stack overflow dicevamo prima usa dei colori ma vedete usa dei colori tutto sommato pochi non esagera c'è un blu ci sono le tonalità di blu c'è questo giallo che è usato praticamente solo come sfondo in alcune domande e quindi ha un significato e il blu è usato per i bottoni per le indicazioni eccetera non ne ha milioni di colori ne ha praticamente due o tre il giallo e il blu e il bianco e questo grigio qui quando è selezionato è poc'altro questo ha qualche criticità in più in termini di colore di nuovo ci fa pensare allora quali sono guardando i colori quali sono le cose che secondo voi qui alcune sono scritte non vanno o vi fanno chiedere perché è fatto così allora innanzitutto cosa vuol dire rosso non ci sono più posti e come lo sai perché c'è scritto in alto quindi già ho un colore e ho bisogno della leggenda per saperlo quindi consideriamolo blu cosa vuol dire che è disponibile poi ci sono altri colori giallo e verde e grigio ok perché questo è più rosso perché dalle 9 alle 10 è più rosso perché qua c'è scritto 9 no? quindi perché qua dalle 9 alle 10 è più rosso di questi altri orari sì perché c'è una scritta in bianco sull'orario 9 e solo sul 9 non dopo per nessunissimo motivo perché gli andava probabilmente comodo fatto così no? cioè questo è un contenitore che va dalle 9 alle 13 con 36 prenotazioni su 36 questo prenoterà voleva essere il titolo però non c'è un motivo per cui questo sia più rosso di questo sotto potrebbe essere tutto rosso uguale no? e stessa cosa per il blu ovviamente no? perché questo è più blu e non c'è neanche se volete un indicatore del livello di quanto è pieno no? perché voglio usare colori diversi benissimo quando è tutto pieno faccio diventare tutto rosso scuro o tutto blu scuro e quindi quando arriva a 35 sarà tanto blu e invece se ne ho una prenotazione su 36 sarà lieve 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 e poi ne ho 10 diventa un po' più scuro lo uso come colore di riempimento più prenoto più diventa scuro e invece no rimane esattamente così quindi se questo invece di essere un calendario con queste ore eccetera fosse stata una tabella che ho scritto 9.13 eccetera senza colori e quant'altro non cambiava assolutamente niente vuoi prenotare dalla 9 alle 13? sì no e quando non ci posso più prenotare tolgo i bottoni sì no perché ho bisogno di un calendario con tutte queste orari per nessun motivo poi lasciamo perdere l'utilità di questo testo ma questo cosa c'è che non va su questo testo visto che parlavamo di testo il testo dice a partire dal giorno 15 luglio 2020 è consentito l'uso della seguente sala studio della sede centrale sala studio secondo piano di corso Castelfidardo 39 che carino perché in realtà è già scritto nel titolo quindi sto prenotando per quella sala studio perché mi dici che è disponibile ma vabbè codice locale TOC11XP02001 che è un'informazione fondamentale per degli studenti che prenotano una sala studio giusto? come fare a vivere senza questo è il codice locale del Politecnico sulla mappa del Politecnico che probabilmente interessa due persone nell'intero ateneo giusto quello che decidono gli spazi e i luoghi messa qui visibile agli studenti non ha senso è un'informazione che è inutile potevano risparmiarla ok qualcos'altro di strano che vedete qui gli orari ci sono scritti gli orari ma anche si capiscono gli orari si ci sono scritti questi orari qui ma non non serviva un layout a calendario perché c'è scritto questi questi qui tu dici questa riga questa riga dice una cosa diversa dice due cose diverse dice che le sale studio sono aperte dalle 9 alle 18 e dalle 1 di al venerdì e qui ci sarebbe chiedersi tutte le sale studio solo questa che sto prenotando forse tutte e poi l'accesso sarà consentito su due turnazioni orarie che era ovvio perché sto facendole qui dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 cosa succede dalle 13 alle 14 non è dato sapere certo in una zona chi c'è deve andare via e chi questo era durante il covid dopo il covid quando si poteva accedere alle sale solo su prenotazione ok quindi questo va beh ha diversi problemi di test eccetera ma ovviamente i colori qui sono quello che 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 impattano di più perché c'è un arcobaleno di colori sia nella leggenda sia qui sotto questo blu è diverso da questi eccetera eccetera ok io avevo un esercizio ma direi che non abbiamo abbastanza tempo per farlo e quindi ignoratelo pure e prima di andare però anche perché sono le 6 e mezza solo quindi vorreste mica andare già via diamo un'occhiata al laboratorio di giovedì che c'è già online allora quello che faremo giovedì in laboratorio è provare ad applicare quello che vi ho raccontato oggi non siamo riusciti a fare l'esercizio l'esercizio era un esercizio di card sorting cioè dato una serie di cose cerchiamo di trovare delle categorie che funzionano per quelle cose che abbiamo quindi se volete provare a farlo per conto vostro così giusto per per divertirvi diciamo tra virgolette divertirvi va bene se no non importa era un esempio totalmente era collegato a mangiato ovviamente è quello che stiamo facendo qui quello che vi chiediamo di fare giovedì in laboratorio era è abbiamo la home page del nostro social durante il laboratorio che vi abbiamo detto noi come farla in termini di layout in termini di di tante cose avete anche la soluzione con dei colori eccetera quindi non ci concentriamo più sulla home page ma facciamo una nuova pagina che è la pagina del singolo post quindi un post a caso del nostro social facciamo la pagina che lo rappresenta questa pagina verrà visualizzata perché poi vi chiediamo anche di farla con bootstrap con CSS con HTML questa pagina verrà visualizzata quando una persona fa click sull'immagine del post della home page quindi non sul titolo non su altro quindi quando clicco sull'immagine di un post va di una nuova pagina che è la pagina del post dove oltre agli elementi già presenti nell'anteprima del post l'immagine il testo l'autore la data eccetera dovrò anche visualizzare dei commenti lasciati da altre persone collegate a quel post quindi quello che vi chiede il laboratorio è prima di tutto pensare a come organizzare le informazioni di questa pagina ci sono i commenti c'è il layout della home page che probabilmente bisognerà portarsi dietro in parto del tutto c'è l'immagine c'è il testo c'è la data c'è l'autore li manteniamo nella stessa struttura in cui li manteniamo all'inizio nella home page o li cambiamo i commenti sono ordinati in che modo per data per autore per in data in ordine crescente in ordine decrescente come strutturate la pagina su carta o su tablet dove vi pare non in codice poi applicare i concetti di design visivo che abbiamo appena visto per selezionare la palette di colori sarà qualcosa simile probabilmente a quella della home è un carattere gli spazi quanto spazio c'è tra ogni commento questi principi che abbiamo visto ovviamente potete scegliere voi il layout e la disposizione degli elementi quindi c'è il post sopra i commenti sotto c'è il post a sinistra i commenti a destra sta a voi una scelta ragionata e a quel punto una volta che avete pensato come farlo si tratta di farlo quindi utilizzando html css bootstrap implementate la pagina che avete realizzato di un singolo post a vostra scelta di quello che avete avete voi nel vostro esercizio di laboratorio quindi non una pagina per ogni post che avete messo nella home ma solo una pagina per un post a caso come se fosse un template di pagina di post che andando a modificare il testo si modifica di conseguenza quindi un esempio della pagina di un post poi settimana prossima inizieremo a parlare di flask e inizieremo anche fra due settimane a generare dinamicamente queste pagine html quindi senza che dobbiate voi andare a mettere il contenuto del post a mano facendo copy incolla dei div ma facendoglio fare a python questo lavoro e quindi questa pagina che progetterete nei laboratori di adesso la ritroverete fra qualche settimana quando dovrete creare un sito multipagina che non abbia solo la home page ma che avrà per esempio cliccando sull'immagine di un post la pagina di dettaglio del post con i suoi commenti relativo al post specifico quindi per ora prepariamo la pagina con del contenuto a caso e poi l'agganceremo fra qualche settimana a un sito vero a un sito funzionante generato con flask quindi questo sarà giovedì quindi è una sorta di proviamo a applicare quello che abbiamo visto teoricamente oggi più ripasso delle settimane precedenti in cui è bene in questo caso usare bootstrap insieme a un file css personalizzato da voi se non lo stavate facendo e poi la settimana prossima inizieremo con python inizieremo con flask quindi ci sposteremo sul sul back end e andremo avanti da lì ok se avete domande sto ancora qua per qualche minuto altrimenti buona serata e ci vediamo giovedì grazie 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 grazie